Importante riconoscimento per il settore giovanile dell'Academy Frentana che si è aggiudicata al titolo provinciale Under 15. La formazione guidata da Mr. Valerio si è imposta sui pari età della cantera Gissi, affermandosi sul neutro di Casalbordino con il risultato finale di 4 a 2. I Frentani, che l'anno prossimo acquisiscono il diritto di iscrizione al campionato regionale Under 15, hanno raggiunto l'atto conclusivo dopo una stagione regolare chiusa al primo posto a pari merito proprio con gli stessi Gissani nelle Girone Bastese. Nelle semifinali Intergirone i Frentani si sono imposti sul Città di Chieti, la cantera ha avuto la meglio della Casolana. Le immagini e le foto che fanno da corredo al nostro servizio sono fornite dalla stessa Academy Frentana alla quale facciamo i complimenti per questa affermazione del proprio settore giovanile, sempre di più punto di riferimento dell'area Frentana.